Siamo venuti in Val di Chiana nel comune di Monte San Savino, ma il comune di Lucignano è lo stesso, perché c'è davvero questa emergenza ungulata, gli imprenditori agricoli sono davvero disperati, perché anche nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, tanti danni. Cosa è successo? È successo che la notte qui ci pascolano continuamente, ma non è ora, sono vent'anni che succedono queste cose, e rimborsi danni, quasi niente o niente, in più ti prendono in giro, perché tanto è sempre così la situazione. Io lo dicevo prima, io mi vergogno a vivere in Italia. Lei che coltivazioni ha? Io ho grano, girasole, grano turco, un po' di favino, questa è una zona che quando c'è o grano o girasole, che sotterreni prevalentemente da queste culture, tutti l'anno c'è danni enormi, distrutti, perché poi qui sotto c'è la riserva dell'azienda agricola fabbriche, il calcione, e quindi da lì escono e vengono nel mio mangiare tranquilli, senza tanti problemi. E praticamente io le governo e quell'altro li ammazzano, perché poi li ammazzano. Quando si è venuto a noi ammazzarli, ne lasciano parecchi per l'anno dopo, perché se facessero anche la caccia seria, ce ne sarebbe molti meno di questi animali. Solo che quando arrivano a un certo punto si accorgono i cacciatori, perché siccome facevo parte di una squadra, anche io lo so, che c'è rimasta una quantità per rifare 200-300 animali l'anno dopo, smettono di sparargli sul serio. E quindi l'anno dopo c'è rie danni, c'è rie tutta la cosa. E in più la cosa è stata da quando gli hanno fatto le riservine, perché ogni squadra ha il suo territorio. Quindi lo gestiscono loro, fanno che gli pare, quindi so, cindiali maialati che fanno più danni ancora, non hanno paura di niente e tritano tutto. E quindi quando passano è un disastro? Disastro. Qui ad esempio siamo, vediamo insomma, qui sono passati. Qui sono passati, si vede chiaramente, ma non solo qui, perché se vai più su è peggio di qui, se vai lì di sotto è peggio di qui. E se non le guardi un po', se non le segui, che qualche notte gli fai qualche tonfo, mortaletti, roba così, ti distruggono tutto. Ma nei girasoli è peggio che nel grano, perché i girasoli proprio le distruggono totali. Lei li ha visti appunto anche qualche notte? L'avrò visti. Quanti ne vede? Ne ho contato neanche 40, tutti insieme qui in questi campi. Io qui ho 10 ettari di terreno, un po' che il mio figliolo e un po' che io. Io qualche notte ho contato 40 animali, fra piccoli e grossi. D'anni? Di che danni si parla? D'anni si parla, ecco, per esempio quando c'era girasoli due anni fa, io gli posso dire che 50 quintali e girasoli li avevano mangiati loro. Ora quest'anno nel grano, non so quantificate e preciso perché non l'ho nemmeno guardato tutto, ma li so 40-50 quintali del grano. Allora io coltivo, io duro fatica e poi mi vengono lasciattate, ma per far divertire i cacciatori, perché il punto è sempre quello. Che cosa si potrebbe fare secondo lei? Allora, la prima cosa sarebbe da levargli questo fatto che hanno le riservine, perché da quando c'è queste riservine e da quando governano è stata una catastrofe. Allora, prima le riservine che tutti cacciano liberamente e quindi gli animali, quel discorso che facevo prima, che alla fine le lasciano, se cacciano anche un'altra squadra non le lasciano più, perché se un l'ammazzano loro, l'ammazza quell'altro. E quindi questo sarebbe una cosa utile. E in più dovrebbero cercare di ammazzarne di più e lasciarcene meno, perché meno ce n'è e meno danni c'è. E' tutto qui il discorso. Anche a livello di regione toscana dovrebbero cambiare, mentre che delle regole diverse. Infatti queste regole le hanno fatte per i voti, perché è tutto per il voto. Se una squadra, le 150 persone, che diventa un apparato di 600-700 voti, forse anche di più, e poi bisogna dare ragione a loro, mica danno ragione a me che c'ho danni. Io devo subire danni e zitto. E basta. Fai le domande e le richieste danni all'ATC le più delle volte quando viene il perito letichi, perché non ti vorrebbe dare niente, in più lo paghi te, in più ti fanno il 20% se l'hai protetti. Insomma, quando arrivi in fondo te non pigli niente. Io ultimamente non ho fatto nemmeno le richieste per non avere uno che viene qui a prendermi in giro. Poi tanto in fondo non te danno niente. Hai mai pensato di smettere? Eh, allora ti dico una cosa, c'è uno che probabilmente ha voglia di comprare. se trovassi chi la compra, la vendo tutta e smetto. Ma non sono io solo, eh. Poi aiutassi, aiutano, aiutano terzisti, questa gente qui, noi coltivatori diretti, piccoletti, ci distruggono. Insomma, la situazione è davvero insostenibile, no, per questi agricoltori. Che cosa si può fare? Eh, che cosa si può fare è una domanda che penso che sia difficile la risposta. una cosa è certa, siamo arrivati al capolinea. Questo è veramente il capolinea. La cosa preoccupante che tutti si devono mettere in mente che è questa è che di anno in anno la situazione peggiora. Peggiora in percentuali altissime. Quest'anno le culture sono leggermente indietro dovute dalla stagionalità e gli animali sono già arrivati. Logico, questo non è l'esempio perché qui siamo a maturazione del grano duro, volevo dire. Però poi dopo arrivano i girasoli. Poi dopo arriva il mais che è l'alimento prediletto per questi animali qui. E di conseguenza, visto e considerato che sono già arrivati adesso, che non è matura la pianta, figuriamoci al momento che è matura, volevo dire. E poi io vorrei spostare un attimino l'input di questa situazione. Non è solamente un discorso che riguarda l'agricoltura. Stiamo molto attenti a questa cosa qua. Non riguarda solamente noi. Sì, io vivo di queste produzioni e se non le raccolgo il quesito, volevo dire, è semplice. La risposta di cui è semplice, però tutti abbiamo una famiglia o tanti abbiamo una famiglia, voglio dire, viaggiamo con le macchine per le strade, questo è un problema grossissimo. E se si tratta di un danno a un'autovettura ci sarà l'esborso economico, però attenzione che c'è anche la sicurezza fisica, questa è una situazione che va presa in considerazione e va nelle maniere più consone possibile risolta. Non ci sono gli abbattimenti e basta, non ci sono i rescinti e basta. Ci deve essere una situazione che accontenta tante parti, volevo dire, perché è giusto che ci siano anche gli animali, ma in forma normale. Per quanto riguarda il discorso dei danni, io vorrei accennare anche una cosa su questa faccenda qui. I danni sono enormi, andiamo a fare le richieste e non ci sono i denari, ma è normale, perché se ci fosse una densità di animali giusta, quella che il territorio può sopportare, chi in quell'occasione ha i danni che si tratterebbe di alcune aziende, potrebbero avere le risorse per essere pagati questi danni. Ora purtroppo le aziende che sono specialmente vicino alle zone boschive sono tutte con i danni, di conseguenza la realtà è che il problema è sfuggito di mano. i danni sono enormi, non c'è soluzione per prendere del denaro perché sono troppi. Se ci fossero gli animali giusti, quelli che ci devono essere, molto probabilmente ci sarebbe anche la possibilità di dare quel poco o quel tanto che è stato fatto di danno all'agricoltore. Questa è una cosa purtroppo reale, bisogna che chi è di competenza, chi ha le competenze in questo settore qui deve fare qualcosa. Coligati ha denunciato spesso questa emergenza Ungolati, lo ha fatto anche in questi giorni, lo sta seguendo con molta attenzione perché i danni sono davvero ingenti. Sì, la situazione è ormai insostenibile, è un annato un po' particolare questa perché i danni meteo con queste bombe d'acqua, queste piogge torrenziali che arrivano di continuo non fanno altro che danneggiare le produzioni. Se a questo ci mettiamo sul cereale, un prezzo di mercato notevolmente più basso rispetto a quello che sarebbe il minimo indispensabile da poter considerare e a questo ci sommiamo sopra questo scempio che fanno gli Ungolati nelle nostre campagne veramente stiamo mettendo in serie rischio la sopravvivenza dell'impresa agricole. Vi farete portavoce anche a livello istituzionale pensiamo alla regione toscana ad esempio. Noi abbiamo chiesto vari interventi lo abbiamo chiesto agli ATC lo abbiamo chiesto alla regione lo abbiamo chiesto un po' a tutti diciamo che ormai quella degli Ungolati sta diventando un'emergenza sociale vera e propria qui non si tratta più dei danni solo alle culture che sono importanti sono ingenti parliamo di 60-70% di danni ma iniziamo a parlare anche di situazioni delicate sia per la popolazione tutta incidenti stradali sono in continuo aumento causati da cinghiali e non solo e anche danni che stanno arrivando sul settore turistico perché ci sono ormai ospiti degli agriturismi che fanno delle dislette di prenotazione perché poi quando si trovano a passeggiare con il bambino vicino all'azienda agrituristica quindi non parlo a 10 km di distanza ma al ridosso dell'azienda e ti fanno un incontro con un cinghiale di 80-120 kg insieme a altri 5-6 cinghiali più piccoli non è assolutamente gradevole si spaventano i bambini e quindi qualcuno inizia a fare delle disdette quindi immagino che il problema è grandissimo per le coltivazioni ma è un problema grande anche da un punto di vista prettamente sociale è un problema è un problema è un problema è un problema Grazie a tutti.